La ringrazio signor segretario generale per l'onore che mi ha riservato e ringrazio gli illustri esperti di climatologia riuniti qui oggi per fornirci risposte concrete. Nel mio ruolo di ambasciatore di pace ho viaggiato in tutto il mondo negli ultimi due anni. Ho visto una città come Pechino soffocata dall'inquinamento, antiche foreste boreali in Canada completamente distrutte e foreste pluviali in Indonesia ridotte in cenere. In India ho visto raccolti sommersi da un'inondazione e in America il livello del mare innalzarsi fino a invadere le strade di Miami. In Groenlandia e in Artide gli antichi ghiacciai stanno rapidamente scomparendo, ben prima rispetto alle previsioni scientifiche. Tutto ciò che ho osservato e che ho imparato nel corso del mio viaggio non ha fatto che aumentare i miei timori. Penso alla vergogna che proveremo quando i nostri figli e i nostri nipoti capiranno che noi avevamo la possibilità di fermare questo scelchio, ma che semplicemente non c'era la volontà politica di farlo. Sì, abbiamo raggiunto l'accordo di Parigi. Mai era accaduto nella storia dell'umanità che così tanti paesi si riunissero intorno a una stessa causa comune. E questo ci fa ben sperare. Tuttavia, la scienza ci dimostra che non è sufficiente. Serve un cambiamento radicale e immediato. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. L'umanità deve conoscere una seconda evoluzione e il tempo a nostra disposizione non è molto. Tutti noi dobbiamo ricordarlo. Non dobbiamo adagiarci sugli allori. Tutto sarà inutile se i leader mondiali torneranno nei loro paesi senza mettere in pratica le promesse contenute in questo storico accordo. Dopo 21 anni di dibattiti e di conferenze, è il momento di mettere da parte le reticenze, le scuse, le infinite ricerche, i tentativi da parte delle industrie petrolifere di condizionare la scienza e le scelte politiche che incidono sul nostro futuro. Il pianeta conta su di noi. Le future generazioni potranno lodarci oppure denigrarci. Noi rappresentiamo l'ultima speranza della Terra. È il nostro dovere proteggerla. O per noi. E per tutte le forme di vita che amiamo. È la fine.